Dopo aver annunciato il ritorno di Alberto Colombo, il monopole ha ufficializzato anche il nuovo direttore generale. Si tratta di Giuseppe Sipone, già segretario generale del club bianco-verde dal 2019 ad oggi. Il laureato in scienze motorie può vantare una carriera ormai decennale in società professionistica con esperienza sia da direttore generale che da segretario generale. Cambio di guida tecnica in casa Sorrento sarà Enrico Barillari a sedere sulla panchina dei rossonelli nella stagione 2024-2025. Prima stagione col Sestri Levante, per lui è arrivata una salvezza storica per il club Ligure. Adesso l'arrivo è il rossonello con l'obiettivo di migliorarsi dopo quanto buono fatto nell'ultimo campionato, chiuso poco fuori dalla zona playoff. Il team Altamura comincia a gettare le basi per il futuro. L'obiettivo è un attacco di Luca Fabrizzi. Il centravanti della Tina ritroverebbe in Puglia Daniele Di Donato, che lo ha allenato proprio nella squadra laziale. Per la difesa invece piace Alessandro Minelli, di profeta della Juventus, e ne ha passata stagione in prestito alla Propatria. Dopo aver concluso la stagione alla guida del Manopoli, culminata con una sofferta salvezza, ai playoff Roberto Taurino ha deciso di chiudere la sua esperienza in Puglia. Il tecnico è ora pronto ad intraprendere una nuova avventura, questa volta al Gubbio. La città di notare ha offerto un contratto annuale all'ex calciatore del Perugia. 39 presenze e due gol durante la stagione 2006-2007. Taurino è dunque il successore di Piero Braia, che invece si trasferì dal campo basso. Manca soltanto l'ufficialità. È cominciato il nuovo corso della Casertana giovedì la presentazione ufficiale alla presenza del presidente Giuseppe D'Agostino, Cogliori e Trevisan. Ora però è tempo di costruire la squadra. Il tecnico vuole ripartire dal 4-2-3-1. Grazie a tutti!